Ecco la realizzazione per entrambi gli arti del test a carico degli hamster. Prima con tratti in eccentrico a 30 gradi al secondo per misurarne il picco di forza. Poi nel cambio di tendenza portati in flessione ad alta velocità per rendere trascurabile lo sforzo un concentrico. Grazie per la visione!